Raggiunto il risultato di zero contagi alla comunità incontro di Amelia, dove tutti gli ospiti, lo staff e gli operatori sono stati sottoposti a test sierologici e tampone a cura della USL Umbria 2. Nelle strutture l'attività non si è fermata neanche nel periodo di pieno lockdown. Grazie al protocollo adottato sin dalla prima fase dell'emergenza sanitaria, la comunità, si è detto in una nota, non ha infatti mai smesso di essere operativa pur rimanendo blindata.